Per chi lavora in questo settore, le ultime 24 ore sono state devastanti. Google ha rilasciato degli aggiornamenti importanti che bisogna conoscere perché impattano direttamente nel nostro lavoro. Inizieremo dal weekend, perché c'è qualcosa di forte, veramente forte. Però prima, lasciatemi annunciare che giovedì 29, quindi domani, ho l'onore di presentare gli Hot Topics della SEO. È un'indagine che ha fatto il Search Marketing Connect, ha intervistato tutti gli esperti SEO italiani e gli ha fatto 49 domande. Per ogni domanda hanno messo un indice, ho partecipato anche io, con molto piacere. E ogni domanda è commentata, quindi a breve sapremo come lavorano i SEO italiani. È un'indagine molto bella, l'ho vista in anteprima, ci sono delle cose interessanti, c'è dove siamo tutti d'accordo, dove non siamo d'accordo, che cosa c'è da imparare. Già leggendo ogni singola domanda e i commenti si impara veramente, veramente tanto. E poi ci sono alcuni miti della SEO che vengono sfatati insieme da una comunità. È veramente un'indagine interessante. Vi metto il link in descrizione, viene presentata l'indagine del Search Marketing Connect durante un'iniziativa della settimana della formazione, dove c'è due, tre lezioni gratuite che potete ascoltare tutti. Ma portiamo con le novità di Google, perché ce ne sono tante, forse troppe. Sarò abbastanza veloce, almeno spero. Allora, innanzitutto la prima, che non è successa nell'ultima 24 ore, è successa nel weekend, un po' prima. Pare, e dico pare, che ci sia stato un reverse del medical update, chiamato medical update, sbagliato. Secondo me anche questo reverse non si sa ancora, però ve lo segnalo. Io ho iniziato a notare qualche commento in America dal 22 di novembre fino al 26. Qualcuno l'ha chiamato Thanksgiving Update, perché è stato fatto, secondo loro, il giorno del ringraziamento. Comunque guardateci, perché è interessante, magari i vostri siti, segnalatemi se avete notato anche voi dei cambi importanti e se avete fatto qualcosa, perché magari raccogliamo un po' di opinioni. Però Google non fa bene niente a caso, quindi per ringraziare il giorno del ringraziamento, eccetera, eccetera, voglio mostrarvi una cosa interessante. Che cos'è che stanno facendo? Stanno mostrando dei risultati con zero siti in SERP. I zero siti in SERP, molto, diciamo, carinamente, sono tipo le ricerche che ora è in India, in lingua inglese è da smartphone, in italiano ancora non li ho visti, ho fatto delle prove, che ora è in India, per esempio, oppure la calcolatrice. Non c'è la possibilità di vedere i risultati se non cliccando il tasto Show All Result, quindi mostra tutti i risultati. Insomma, abbastanza interessante da andare a verificare per chi lavora in questo settore, però sapevamo che sarebbe arrivato, avevano fatto dei test, è importante. Altra cosa molto importante che è successa nelle ultime 24 ore, dentro Search Console potete vedere c'è una nota che dice aggiornamento nella ricerca di Google, non è un aggiornamento del ranking, non è un aggiornamento, insomma, che impatta tanto, però impatta i report. E' un aggiornamento per quanto riguarda i report, parla in modo specifico qui del Mobile First Indexing, quindi tutti quelli che sono passati al Mobile First Indexing, che hanno ricevuto la notifica, scambieranno i report e pare, almeno da quello che ho letto in America, che ci sarà tutta una serie di updates sui report di Search Console, lo sappiamo perché entro fine anno Search Console andrà a definire una versione meno beta di quella attuale, quindi queste sono un po' le cose importanti per quanto riguarda Search Console. Un'altra cosa molto importante, in lingua americana è possibile, in lingua inglese, scusate, è possibile verificare per esempio i commenti e i mi piace nei risultati di ricerca. Sono attivi, se mettete la lingua inglese, per esempio per la partita del Manchester City contro il Manchester United, se andate a vedere, c'è commenti, la possibilità di lasciare il commento per chi è attivato l'opzione, e poi i top commenti con mi piace e non mi piace e tutti i vari commenti con il report. Insomma, potete farci un giro per verificare. Gianluca Fiorelli ha segnalato un nuovo modo di mostrare i risultati, un nuovo modo, nel senso una feature in più, quando arriva la position 0, per esempio c'è un articolo con un risultato visuale, guardate cosa accade, compare questo, le 12 migliori telecamere reflex per i principianti nel 2018, Gianluca che cosa dice? Che quando fai, vedi gli altri 5, vai nei risultati di ricerca, poi provi a cliccare su una di queste immagini e ti riporta, non nell'articolo, ma nella SERP di nuovo con insomma tutta una serie di cose. Dice, è una storia un po' triste questa. Possiamo dire che rientra in quello delle posizioni 0, Google ci manda sempre nei risultati di ricerca, tra un po' non usciremo più. Aggiornamento importante su Google Home Hub, che è praticamente il Google Assistant di Google, ma visuale, una sorta di tablet che è Google Assistant, supporta da poco speakable, quindi la possibilità di leggere gli articoli, e quindi voi potete chiedere, mi dai le ultime notizie sugli algoritmi di Google, e lui ti dà la risposta con l'ultimo articolo che trova. Interessante update invece per il mondo locale. Per il mondo locale c'è questo aggiornamento che ho trovato veramente molto interessante, che è la possibilità, vedete qua, di avere il follow delle strutture ricettive. Quindi che cosa accade? Che voi mettete follow, l'ho segnalato a TechCrunch, e riceverete in una tab specifica per voi tutti gli update delle strutture che seguite, con offerte e notizie. Tra l'altro, nei commenti, l'ho segnalato Luca Bove, sempre da Search Engine Journal, la possibilità di inserire nelle recensioni gli hashtag. Molto interessante. Concludiamo con le ultime due notizie che riguardano questo mondo, non sono SEO e le ho viste nelle ultime 24 ore. Spariranno le annotazioni di YouTube, ce l'avevano detto che non le avrebbero più aggiornate, la feature non sarebbe aggiornata, ma dal 15 gennaio sparirà proprio, non sarà più possibile vedere le annotazioni. Ultima, ma non meno importante delle altre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera ad Amazon per diventare, insomma così, un operatore delle poste. Insieme ovviamente a tanti altri c'è una lista dove c'è tutti i nomi, ce ne sono tra i 4 e i 4.500, 4.500, credo 4.400, e ci sono due società di Amazon. Insomma, questo è il breve ricapitolo delle cose che sono successe quasi nelle ultime 24 ore. Ci tenevo perché ci sono tanti aggiornamenti di Google importanti che impattano nel nostro lavoro e, insomma, Fast Forward parla di questo, di internet, di un internet migliore, di cose che ci possono essere molto, molto utili nel nostro lavoro. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate o se volete approfondire qualche notizia. Ci vediamo al prossimo video, non so se pubblicherò i prossimi giorni e se non ci saranno dei video ci vedremo, come sempre, il lunedì. Grazie. Grazie.